Nella ricostruzione della procura di Lanciano, l'attività di quattro dei sei componenti della banda della rapina shock del 23 settembre. Le loro icone si vedono scorrere lungo il percorso che li ha portati sul luogo del crimine. Siamo al giorno che precede la notte degli orrori. I quattro accusati alle 18.06 sono in città. Colteanu e Turkayon Cosmin entrano in un bar. Poco dopo Colteanu utilizza il cellulare. Sono le 18.22. Un minuto dopo, i due rientrano nel loro covo che si trova poco distante. A quel punto un membro della banda e Turkayon Aurel entrano nel covo dove quest'ultimo parla con il proprietario dell'appartamento. Un'ora dopo, sono le 19.27. Quattro componenti della banda lasciano il covo. Sono Turkayon Aurel, suo fratello Cosmin Yom, Colteanu e Rosetta Aurel. Il quartetto si dirige verso piazza Aldomoro a bordo di una Golf e di una BMW. Qui parcheggiano la Golf e proseguono con l'auto di grossa cilindrata. Sono le 19.38. Sette minuti dopo arrivano nei pressi di Villa Martelli per un sopralluogo. L'assalto alla casa dei coniugi avviene poche ore dopo, nella notte. I banditi li sorprendono nel sonno e li pestano. Volevano sapere dove era una cassaforte inesistente. Le immagini dei sopralluoghi della polizia mostrano le camere distrutte dall'irruzione dei ladri. Infine, uno dei rapinatori viene ripreso dalle telecamere dello sportello del Bancomat dove preleva i soldi con le carte di credito sottratte alle vittime. 1.990 euro, il magro bottino per cui hanno massacrato i coniugi martelli.